hello everyone e benvenuti in questo nuovo episodio di photography tips and tricks grazie a tutti quelli che si sono iscritti al canale grazie a tutti quelli che stanno contribuendo con la loro passione e con loro interesse il canale è nato solo da pochi giorni e pian piano stiamo sempre crescendo di numero e formeremo un gran bel gruppo lavoro per poterci divertire insieme con tante immagini creative e davvero interessanti oggi continueremo a parlare un po dell'importanza di instagram e vi darò qualche consiglio su come taggare al meglio le vostre fotografie non dimenticate di creare un account instagram che ci servirà anche in futuro per partecipare a dei foto contest che partiranno a ottobre sulle tecniche che abbiamo utilizzato fino adesso quindi per favore ragazzi esercitatevi fatevi i compitini a casa e soprattutto andatevi a vedere l'episodio precedente perché dall'episodio precedente cominciamo a lavorare in modo più tecnico sull'uso dei filtri graduati ok questi sono molto importanti da utilizzare in lightroom e nei prossimi episodi vedremo diversi tipi di tecniche su come utilizzarli passeremo poi a vedere come importare una fotografia nel catalogo di lightroom e come organizzare meglio le vostre fotografie le vostre raccolte le vostre raccolte fotografi all'interno del catalogo lightroom e poi a passeremo al progetto vero proprio di oggi che il il dramatic black and white che va a utilizzare una tecnica che ho studiato da fotografi internazionali alla adobe academy di los angeles che si chiama dodging and burning ok questa tecnica utilizza fondamentalmente i filtri graduati di tipo circolare quindi ragazzi se siete pronti andiamo e seguitemi prima di cominciare il nostro progetto my dramatic black and white volevo continuare a parlarvi di instagram dell'importanza di instagram questa la mia pagina di instagram potete anche contattarmi qui qui troverete diverse fotografie che ho effettuato durante i miei ultimi viaggi e vi nuovamente ribadisco createvi un profilo instagram è davvero importante oggi avere un profilo instagram perché fondamentalmente è aperto a tutti tutti possono guardare il profilo di tutti certamente se non lo mettete privato ma non ve lo consiglio quindi mettete un profilo pubblico dove tutti possono guardare le vostre foto possono commentarle e utilizzate degli hashtag che siano appropriati quindi se caricate una fotografia utilizzate degli specifici hashtag quindi se è una foto in bianco e nero utilizzate degli hashtag che hanno a che fare con il bianco e nero qui ad esempio ne potete vedere alcuni come esempi se è una foto di architettura utilizzate un hashtag che abbia a che fare con l'architettura se è una foto che magari ha un bel cielo utilizzate un hashtag relativo al cielo chiaramente relativo anche al posto se è stata scattata in italia se è stata scattata all'estero utilizzate anche le tag delle community qui ne vedete qualcuna ce ne sono tantissimi ad esempio kings all tags è una community veramente conosciuta in italia a 41.000 followers e qui ci sono raccolte di tantissime fotografie non solo italiane ok ragazzi quindi esercitatevi createmi un canale instagram questo è il canale youtube molti di voi già lo conoscono piano piano stiamo crescendo siamo quasi a 100 iscritti aiutatemi per favore a crescerlo non dimenticate di lasciare i commenti su ogni video e fatemi sapere se c'è qualcosa in particolare di cui vi piacerebbe discutere e condividetelo parlatene cercate di aiutarmi per me la prima volta che mi avvicino all'italia con questi tipi di video tutorial completamente in italiano e questo è importante ci sono sì sottotitoli in inglese per i miei amici stranieri ma voglio sottolineare che questo è nato per avvicinarmi di più all'italia e per dare a voi ragazzi la possibilità di imparare qualcosa che ho imparato durante i miei anni di studio con fotografi internazionali e all'estero ok bene detto questo passerei subito all'interno di lightroom e andiamo a vedere oggi come importare una fotografia a lightroom seguitemi bene siamo all'interno della sezione libreria di lightroom e sulla sinistra voi sicuramente avete un menu a tendina del genere qui in inglese è come navigator indicato come navigator e all'interno nel sottomenu avete il menu delle vostre cartelle dei dei dispositivi che attualmente sono connessi al vostro lightroom quando c'è questo piccolo segnalino verde significa che il dispositivo è attivo è connesso al catalogo lightroom come vedete qui ho un diciamo un rettangolino che è spento perché la mia penna pen drive è attualmente non connessa al catalogo lightroom quindi qua ad esempio nel mio caso ho il mio hard disk principale un hard disk esterno è il mio server nas come funziona il menu libreria bene ragazzi io andrò a spiegarvi le cose veramente semplici che potete utilizzare giornalmente nel vostro lightroom e vi aiuterà ad organizzare il vostro lavoro le vostre cartelle con tutte le vostre fotografie in modo molto molto preciso e molto ordinato ok quindi facciamo un esempio siete appena rientrati da una passeggiata fuori dove avete fatto tante foto e avete le vostre fotografie all'interno della memory card della macchina fotografica inserite la memory card all'interno del vostro computer nel lettore di memory card e scaricate le fotografie creando una cartella sul desktop lo potete potete chiamarla come volete una volta che queste le vostre fotografie fotografie saranno all'interno di una cartella che avete creato sul desktop andate in lightroom e utilizzate la funzione in porta cliccando sulla funzione in porta vi si aprirà questa pagina e una volta aperta questa pagina ricordatevi questa regoletta semplice il menu in porta ed esporta di lightroom deve essere letto in senso orario partendo verso sinistra quindi da qui girando verso la fine da qui sulla sinistra scegliete da dove importare la vostra fotografia quindi la sorgente e la destinazione sulla destra al centro potete utilizzare diverse opzioni come ad esempio muovere quindi spostare da una una memoria all'altra ad esempio dalla vostra memory card direttamente all'interno del catalogo lightroom o ad esempio copiarle quindi significa che le fotografie rimarranno sempre all'interno della cartella che avete precedentemente creato su sul vostro computer e verranno copiate all'interno di lightroom ok per il momento non utilizziamo le altre due funzioni quindi soffermatevi sulla funzione move e copy quindi spostare e copiare io per semplicità ho creato già una cartella ho chiamato l'ho chiamata youtube quindi io clicco sulla cartella quindi come dicevo prima avete sicuramente un catalogo del genere quindi scegliete il la sorgente quindi dove avete voi scaricato le vostre fotografie io ho creato questa cartella che ho chiamato youtube con questo tasto deseleziono tutte le altre che non mi interessano e seleziono ad esempio questa fotografia che è la fotografia del progetto di oggi una volta selezionata la fotografia devo decidere cosa fare se la voglio spostare o la voglio copiare ad esempio io scelgo spostare quindi la fotografia verrà spostata all'interno del catalogo lightroom qui è possibile scegliere diverse opzioni quella che vi consiglio per il momento è quella di non importare dei sospetti duplicati quindi significa che se ci sono due fotografie identiche lightroom è abbastanza intelligente da capire di importarne solo una perché riconosce che le due fotografie sono esattamente identiche ok funziona praticamente lavorando con i metadata ok non entriamo nel dettaglio di tutte le altre funzioni fermiamoci su questa sezione che vi consente di rinominare il vostro file ad esempio posso andare qua cliccando su questo tasto posso andare su edit e posso inserire ad esempio il nome che voglio ad esempio fotografi tips and tricks e potete selezionare una delle opzioni affinché lightroom vi vi inserisca la sequenza numerica o informazioni aggiuntive come quando è stata scattata quindi la data la dimensione io in questo caso inserisco solamente il nome è la sequenza e clicco ok da ok quindi abbiamo detto al lightroom come deve importare la nostra fotografia all'interno del catalogo una volta fatto questo possiamo andare sulla parte che riguarda le parole chiavi perché questo vi consentirà di in futuro ritrovare le vostre fotografie in modo molto veloce quindi qui potete inserire vi consiglio di inserire almeno tre ad esempio potete inserire bianco e nero visto che stiamo facendo un progetto in bianco e nero questa foto è stata scattata a varsavia quindi scriverò varsavia non so polonia ad esempio non so strada qualcosa del genere potete potete inserire diverse parole chiave che vi serviranno dopo quindi questa foto è in questo momento taggata con queste fotografie con queste hashtag una volta fatto questo andiamo e andiamo a decidere dove vogliamo che la foto finale verrà poi importata e che dove lightroom deve praticamente importare questa fotografia quindi io decido che voglio che sia sul desktop ok se clicco tasto destro ho l'opzione di creare una nuova cartella quindi posso fare crea nuova cartella quindi potete nominare la cartella come volete potete scrivere tutto quello che volete una volta fatto questo cliccate ok quindi crea crea una cartella e io l'avevo già fatto per semplicità comunque ritrovate qua ho già creato una cartella chiamata episodio numero 3 vi ritroverete la cartella episodio numero 3 sul vostro lightroom cliccate importa e lightroom automaticamente importerà la fotografia io l'avevo già fatto e come vedete la fotografia è qui già pronta per essere utilizzata nel pannello sviluppo ok ragazzi penso che sia abbastanza semplice come vedete qua abbiamo la fotografia così come l'abbiamo rinominata noi in lightroom e questa fotografia ve la ritroverete nella cartella episodio 3 che abbiamo creato sul desktop è un processo molto semplice spero di essere stato chiaro fino adesso non credo che ci sia nulla di particolarmente complicato una volta che abbiamo la foto nella nostra libreria possiamo fare quello che vuoi possiamo ad esempio andare nella sezione collections e creare ad esempio una nuova collection e la chiamiamo ad esempio varsavia ok creiamo la cartella varsavia all'interno del nostro catalogo e possiamo prendere la foto e fare drag and drop direttamente all'interno della nostra collection direttamente all'interno della nostra collection varsavia come volete la fotografia è all'interno della collection fondamentale ragazzi qualsiasi operazione fate tra fotografie o tra cartelle quindi se spostate foto da una cartella all'altra dice ok non mi va di più di tenerla su questa cartella la voglio avere qua su travel photography per esempio spostate la cartella sempre all'interno di lightroom ok la stessa cosa le fotografie spostate le fotografie sempre all'interno della vostra libreria lightroom mai all'esterno perché se erroneamente spostate le fotografie all'esterno del catalogo di lightroom lightroom vi darà un errore perché non troverà più la fotografia ok non capirà più dove si trova la fotografia perché l'avete spostata fuori dal catalogo quindi vi consiglio di lavorare solo ed esclusivamente all'interno del catalogo del catalogo lightroom ok ragazzi siamo nel modulo sviluppo e se siete pronti let's rock ok quindi per prima cosa andiamo a resettare tutte le slide chiudiamo chiudiamo tutti i vari pannelli che sono aperti come sapete io a me piace lavorare così chiudo anche lo strip di sotto per avere la la foto a pieno a pieno schermo questa foto è stata scattata a iso 64 a 15 millimetri f9 a un duecentesimo di secondo ero non ero neanche su cavalletto era durante il giorno come vedete c'era una luce particolarmente boring come la chiamo io quindi diciamo un po noiosa i colori sono molto spenti diciamo i colori non non erano un granché in genere quando c'è una giornata di questo tipo mi diverto a fare un po di dramatic black and white quindi vado in bianco e nero e vado a creare qualcosa di interessante per questo tipo di fotografie di architettura urbana ok quindi avendo scattato con un grande angolare come ben vedete c'è molta distorsione che andiamo subito a correggere quindi il primo step andrei nella correzione nella sezione della correzione prospettica e rimuovo le aberrazioni cromatiche correggo le distorsioni che possono essere causate dalla lente quindi chiudiamo questa sezione apriamo la sezione trasforma della prospettiva della lente e andiamo e clicchiamo su auto come avevamo già visto nell'episodio precedente questa funzione è molto utile proprio per questi tipi di fotografie non è al 100% affidabile però in linea generale funziona abbastanza bene clicchiamo su auto e normalmente boom dovrebbe fare esattamente quello che ha fatto adesso come vedete ha allineato la fotografia per come volevo che venisse quindi vado a fare un cropping di questa fotografia quindi vado a eliminare le parti che non mi interessano quindi diciamo andiamo a tagliare leggermente questa fotografia dando un aspetto un po più dinamico e la nostra fotografia adesso è pronta per essere sviluppata in Lightroom chiudiamo il pannello trasforma e apriamo adesso il pannello base quello che vogliamo fare è un progetto di fotografia in bianco e nero quindi passiamo da colore a bianco e nero clicchiamo su questa funzione e già la nostra fotografia risulta in bianco e nero quindi completamente tessaturata per questo tipo di progetto che ho sviluppato i passi successivi da inserire sono i seguenti andiamo a regolare come già avete capito negli episodi precedenti la prima cosa che vado a fare è lavorare sulle ombre e sulle alte luci per questo tipo di fotografie perché ho scattato con una full frame mi spingo ad aprire le ombre al 100% e ad andare giù con gli highlights almeno 100% se avete scattato con uno smartphone o con una psc vi consiglio di mantenervi su valore intorno a più 80 e meno 80% fatto questo andiamo a regolare le luci quindi tasto alt sulla tastiera ci spostiamo con lo slide verso destra finché non raggiungiamo il livello di clipping così come si chiama in inglese cioè abbiamo raggiunto in questa sezione che vedete bianca sullo schermo il 100% dei bianchi la stessa cosa andiamo a fare con lo slide dei neri ma andiamo a fare l'esatto opposto ci spostiamo sulla sinistra e non appena vediamo queste strisce, questi pixel neri significa che abbiamo già raggiunto la purezza dei neri e in teoria ci dovremmo fermare ma per questo tipo di progetto io mi spingo leggermente oltre e arrivo fino ad un valore di circa meno 51, meno 52 mentre per i bianchi mi fermo un po' prima ma diciamo fino a magari un po' più 40 non voglio avere dei bianchi troppo accesi dopo la puntata precedente un nostro amico, Antonio mi chiedeva come interpretare questi due triangolini che vedete qui dove figura l'istogramma questi due triangolini sono chiamati triangoli di ritaglio o indicatore di ritaglio e praticamente ci indicano quali zone e quali canali della fotografia sono stati ritagliati in questo caso sono entrambi grigi perché la foto è in bianco e nero ma potrebbero essere anche blu o rossi in questo caso significa che il ritaglio è venuto nel canale rosso o nel canale blu ad esempio se io clicco su questo triangolino come vedete nella fotografia mi verrà indicato una zona blu quindi significa che in questa zona ho raggiunto la purezza dei neri la stessa cosa se vado a cliccare sulla sezione che riguarda quella dei bianchi ma siccome non ci sono e non ho raggiunto il clipping quindi la purezza dei bianchi quindi se mi fossi spinto come vedete oltre in questa zona del cielo avrei avuto questa zona rossa che è un segnale di allarme che mi sta dicendo che ho raggiunto in questa zona la purezza dei bianchi quindi praticamente ho perso delle informazioni lì perché avendo il 100% di bianchi non ci sono informazioni nella nostra fotografia quindi questi due triangolini se attivi mi danno un aiuto per capire se ho raggiunto il clipping o meno quindi ritorno nuovamente al valore di prima che se non ricordo male era circa 40 quindi mi mantengo più o meno 37-38 e disattivo nuovamente perché a me non piace lavorare con troppe indicazioni sulla mia fotografia ok quindi questa è l'area di ritaglio e questi due sono chiamati indicatori di ritaglio se volete delle informazioni più dettagliate possiamo anche discuterne nel prossimo episodio eventualmente mi lasciate un commento sotto questo video e posso dirvi qualcosa di più su come utilizzare questa funzione di Lightroom bene fatto questo quindi abbiamo lavorato sulle nostre ombre sulle alte luci quindi abbiamo aperto le ombre abbiamo chiuso gli highlights le alte luci abbiamo lavorato sui bianchi e sui neri e come vi dicevo nelle puntate precedenti già lavorando sui bianchi e sui neri abbiamo un buon contrasto nella nostra fotografia ma per questo tipo di fotografia per creare un effetto drammatico come piace particolarmente a me mi spingo con lo slide del contrasto più o meno intorno a 36-37 passiamo alla chiarezza quindi aumento anche la zona della chiarezza più o meno intorno a 20 questo è il valore guardate un po' già come la fotografia ha preso volume è ben contrastata rispetto alla nostra fotografia iniziale ok possiamo chiudere il pannello base e andiamo alla sezione effetti sulla sezione effetti andiamo ad aggiungere una leggera vignettatura ai bordi in questo modo più o meno meno 15 e una volta fatto questo possiamo andare nella zona dettagli andando a definire la nostra fotografia e migliorare la nitidezza ci portiamo su un valore di nitidezza in questo caso più o meno pari a 100 quindi mi spingo un po' oltre i 90 che vi dicevo nella scorsa puntata anche perché ho scattato un ISO 64 era di giorno e ho scattato con una full frame quindi la foto non ha rumore praticamente i dettagli sono molto ma molto visibili utilizzo la funzione masking per eliminare il cielo da questo effetto quindi l'effetto non verrà applicato nella parte del cielo quindi mi mantengo più o meno intorno a valori intorno a 48 così che solamente le zone bianche che vedete qua sullo schermo verranno affette dall'applicazione della nitidezza aggiungo un po' di luminanza per eventualmente compensare un po' di rumore che ci può essere ma insomma non tantissimo in questa fotografia come vedete ben definita chiudo la sezione relativa ai dettagli perché non abbiamo più di bisogno e ritorniamo nuovamente alla sezione base e adesso qui comincia la magia la creazione di questo workflow lavora con quello che avete visto già negli episodi precedenti con i filtri graduati di tipo circolare quindi andiamo a vedere come ok per prima cosa apriamo la funzione dei filtri graduati e ne applichiamo uno dall'alto verso il basso in questo modo e diminuiamo l'esposizione del cielo me l'avete già visto fare nelle puntate precedenti quindi sapete di cosa sto parlando una volta fatto questo clicco sulla parola new quindi ne vado a creare uno nuovo e faccio la stessa cosa qui sul basso per chiudere la mia fotografia e diciamo attirare l'attenzione più sulla parte centrale ok quindi fatto questo clicco su done su ok e vado ad aprire il filtro graduato di tipo circolare ne vado ad applicare dove vado ad applicare i filtri graduati dove voglio fare quello che si chiama dungeon burning ok è una tecnica che durante i i corsi i fotografi chiamano complexifying the light quindi andiamo a rendere la luce più complessa in che modo? andiamo a creare dei filtri ad esempio posso crearne uno qui aumento l'esposizione e vado a rendere questa parte della fotografia più luminosa clicco su nuovo e faccio la stessa cosa qui da questa parte e aumento leggermente l'esposizione diciamo più o meno intorno a 90 ne clicco un altro nuovo e vado a risaltare più questa parte dove ci sono queste icone e vado ad aumentare anche qua l'esposizione quello che di solito io faccio è non solo aumento l'esposizione su ogni filtro graduato ma ne ne aumento anche la chiarezza in questo modo vado a risaltare di più i dettagli all'interno del nostro filtro graduato e come vi ho detto nella puntata precedente non dimenticatevi che la funzione inverti maschera e la funzione sfumatura siano attivi quindi sfumatura al 100% inverti maschera deve essere cliccato in modo tale che l'effetto sia applicato all'interno del nostro ellisse in maniera sfumata quindi abbiamo creato uno qui sulla destra ne abbiamo creato uno qua sulla sinistra io mi spingerei valori un pochettino più intensi anche questo qua quindi posso ritornare su tutti i filtri graduati che ho fatto quante volte voglio e ne creiamo un altro possiamo creare un altro bel filtro graduato qui in fondo aumentando l'esposizione diciamo a un più più 70 e anche la chiarezza ok ne creiamo ancora un altro e vado a questa volta risaltare la stradina che porta fino alla chiesetta in modo da avere in modo tale che lo sguardo si rivolga verso l'interno della fotografia quindi voglio creare quello che si chiama leading lines come vedete posso giocare con questo filtro graduato lo posso muovere così lo posso spostare lo posso chiaramente anche allungare quindi lo allungo leggermente in modo tale che vada a coprire una parte della strada quindi lo posiziono più o meno più o meno qui questo potete giocare voi dipende dalla la fotografia potete chiaramente giocare e divertirvi con questi filtri in modo creativo come volete e vado a risaltare e a creare un po' più di luce riflessa qui sulla sulla stradina ok ragazzi bene non entro nei dettagli di tutte le altre funzioni magari sì mi spingerei darei un taglio un po' più panoramico a questa foto guardate il prima guardate quale foto siamo partiti e guardate dove siamo arrivati adesso no? veramente un grande una grande differenza la metto a tutto schermo così vedete veramente che differenza rispetto alla foto iniziale noiosa priva di colori un niente di che e questa è una fotografia che sicuramente tutti potete fare scendete giù in strada nella vostra città e scattate una fotografia in una stradina piccolina una stradina carina dove magari ci siano dei palazzi particolari possibilmente dove non ci siano molte persone o molte macchine e tornate a casa esercitatevi su questa tecnica con i filtri graduati ogni filtro può essere non vi dimenticate come dicevo prima di ogni volta che create un filtro dovete selezionare nuovo ok in modo tale che potete avere il controllo indipendente su ogni filtro graduato importante è anche di questa funzione che vedete qui su questa funzione show selected mask overlay vi consente cliccando di guardare dove l'effetto è stato applicato vedete che qua si vede un alone rosso vuol dire che l'effetto è stato applicato all'interno è in modo sfumato la stessa cosa se clicco qui lightroom mi farà vedere che l'effetto è applicato qui se non vi va di vederlo potete anche deselezionarlo quindi però diciamo questa è una sorta di prova che vi fa vedere dove effettivamente avete applicato l'effetto bene ragazzi questa è la foto la foto finale a me piace particolarmente è una tecnica che ho studiato con un grandissimo fotografo che fa solamente black and white e utilizza i i filtri di tipo graduato per dare un aspetto più corposo e più interessante ad una fotografia che probabilmente risulterebbe noiosa se costruita a colori quindi uscite nelle vostre città a fare una fotografia del genere per le strade e magari scegliete una strada che non sia invasa da turisti o da molte macchine potete scattare in una stradina piccola dove ci siano degli edifici magari interessanti e una volta scattata questa fotografia tornate a casa e provate questa tecnica ok quello che abbiamo visto oggi è la base di quello che si chiama come dicevo prima io dodge and burning o dodge and burn e va a rendere la luce più complessa quindi andiamo a scegliere noi dove la luce deve essere più intensa o meno intensa possiamo giocare con questi filtri davvero in modo creativo ok ragazzi quindi esercitatevi tanto perché ci servirà questa tecnica nelle prossime lezioni e anche in previsione del contest che vorrei lanciare il prossimo mese dove andrete a utilizzare proprio queste tecniche che abbiamo imparato durante il mio videocorso d'accordo quindi spero che questo video che questa esercitazione vi sia vi sia piaciuto se vi è piaciuto non dimenticare di lasciare di lasciare un commento sotto sotto l'episodio condividete il più possibile aiutatemi sempre di più a crescere questo canale e ci vediamo al prossimo episodio con un'immagine davvero davvero interessante ciao e alla prossima